Benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensiremo un processore che ritengo il best buy del momento, il Ryzen 5 3600 che ha 6 core e 12 triad. Dopo la sigla la recensione completa e nel frattempo iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Iniziamo dall'unboxing e vediamo cosa si trova nella confezione. Ho notato subito che questa volta la confezione è molto più sottile in confronto a quella della generazione precedente che era un po' grossa. Questa è la CPU. Come vedete insieme alla CPU abbiamo anche l'adesivo Ryzen 5. Vi mostro meglio il processore. Ecco metto a fuoco. Ecco qua. Ryzen 5 3600. Poi ovviamente troviamo le solite scartoffie e il dissipatore che è ben costruito. Mi piace molto. Solido. Ben fatto. Sicuramente meglio di quello dell'Intel. E naturalmente è già dotato di pasta termica. Ovviamente lo testeremo sul campo e vedremo anche come si comporta con le temperature più alte. Come scheda madre ho scelto un MSI B450 Gaming Plus Max e vi ricordo che sotto al video trovate il link di tutti i componenti che vi sto mostrando sia del processore Ryzen 5 che della scheda madre. Ma è il momento di metterci all'opera e montare la CPU sulla scheda madre e successivamente dobbiamo montare il dissipatore che va avvitato con delle viti e vi ricordo che dovete utilizzare un cacciavite a stella e successivamente avvitare tutte le quattro viti. Successivamente aggiungo una barretta di RAM DDR4 8 GB della Corsair con una frequenza di 3600 MHz. Monto la scheda madre nel case, avvito tutte le viti e aggiungo come scheda video una GeForce GTX 1650 con 4 GB di RAM DDR5. Ovviamente sotto al video trovate anche i link della scheda video e della RAM. Come storage ho scelto l'SSD Samsung 860 EVO da 240 GB anche se su questa scheda madre è possibile montare le memorie a stato solido e veloci NVMei. Dopo aver assemblato tutti i componenti, installo il sistema operativo e i driver. Dovete sapere che questa CPU è l'evoluzione del Ryzen 2600 sempre con 6 core e 12 thread anche se il 2600 partiva da una frequenza base di 3,4 GHz mentre il 3600 parte da una frequenza base di 3,9 GHz fino arrivare a 4,2 GHz mentre il 2600 arrivava a 3,6 GHz. Quindi c'è un incremento della frequenza. Come vi ho già detto prima il dissipatore stock mi è piaciuto molto e rimane buono. Ovviamente se non si vuole fare overclocking perché in tal caso poi bisogna optare per un altro dissipatore. microarchitettura Zen 2 DMD che utilizza il processo produttivo a 7 nanometri. Ryzen 5 3600 offre un valore eccezionale per quello che costa al momento, anche se non mi piace parlare di prezzi perché variano continuamente, costa sui 170 euro ed è venduto e spedito da Amazon sotto al video trovate il link, è secondo me la migliore opzione per chi sta assemblando un nuovo pc da zero. Batte il Core i5 9600K in pratica in tutte le applicazioni provate e nella peggior situazione pareggia i conti. In conclusione è un processore che secondo me non ha rivali, veloce e potente e non costa tanto. Ottimo per chi vuole costruirsi un computer da gaming ma non vuole spendere un patrimonio. Per chi è interessato sotto al video trovate il link per acquistarlo su Amazon e trovate il link anche degli altri prodotti che vi ho mostrato. Se avete apprezzato questa recensione vi invito a iscrivervi al canale e magari lasciare un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Ciao a tutti!